a tutti voi miei cari amici un bentornati o un ben ritrovati o un benvenuti settima puntata del ciclo di catechesi dal non senso alla vita di cielo stiamo cominciando ad entrare un po' nel vivo, nel clou di questo viaggio la cui prima parte, come sappiamo bene ha una finalità, diciamo così diagnostico-conoscitiva dobbiamo cercare di raccapezzare un pochino quello che accade dentro noi stessi come prima cosa per avere un quadro oggettivo più possibile della nostra realtà in vista appunto di un percorso di guarigione e di liberazione che ci porti, se Dio vuole, anche molto lontani però, prima di andare molto molto lontani dobbiamo fare questa salutare fatica di entrare bene dentro noi stessi e vedere come disse il Signore al popolo di Israele un tema tipicamente quaresimale con il periodo in cui cade questa catechesi cosa c'è nel tuo cuore nostro Signore Israele ce l'ha fatto stare 40 anni nel deserto perché vedessi quello che c'è nel tuo cuore si legge nel capitolo 8 del libro del Deuteronomio e se avresti servito Dio o no noi stiamo cercando di andare a vedere cosa c'è nel nostro cuore la volta scorsa ci siamo soffermati su alcune sintomatologie brutte e patologie brutte entrando soprattutto dentro le dinamiche distruttive delle paure che alimentano come sorgenti stramaledette tutti quanti i nostri vizi comportamenti sballati o sbagliati sappiamo bene che la paura è il primo atteggiamento con cui l'uomo ha reagito diciamo così a Dio dopo il peccato quindi subito dal peccato originale a paura subentra la paura di Dio la paura distruttiva bene per ragioni di completezza la volta scorsa abbiamo visto le paure diciamo un po' più rilevanti da un punto di vista come dire esistenziale dai risvolti anche morali quindi quelli che alimentano i vizi c'è anche tutto quanto l'ambito delle paure psicologiche o l'ambito per esempio dei tic nervosi che ci portiamo dietro o anche delle piccole delle piccole manie no? per esempio facciamo un pochino chi si mangia sempre le unghie chi si mangia sempre che ne so le pellicine che si mangia le penne che ha dei tic o dei patters quindi dei movimenti tipici del corpo che in certe situazioni regista sempre in un certo modo ci sono le paure psicologiche ci sono le paure tipo la claustrofobia la paura del buio la racnofobia quindi la paura dei ragni la paura degli insetti quelle cose che fanno un pochino le vertigini diciamo la paura dell'altezza sono tutte quante forme di infermità o di debolezze sono sintomi molto difficile delle volte entrarci dentro però generalmente anche dietro queste cose ci può essere qualche qualche ferita primordiale no? una persona è terrorizzata del buio è molto verosimile è molto frequente che al buio abbia vissuto magari in epoca ancestrale o comunque nella tenerissima infanzia qualche vicenda assolutamente distruttiva quindi ha dentro di sé l'associazione profonda e dolorosa a buio uguale situazione di morte quindi il buio va evitato a qualunque costo ecco sappiamo che alcune di queste cose possono diventare patologiche no? pensiamo per esempio alle manie pensiamo alle manie della pulizia cioè la pulizia è una cosa buona ma penso che sappiamo che ci sono delle persone che sono ossessionate dalla pulizia cioè sia per quanto riguarda la casa sia per quanto riguarda i vestiti la persona insomma no? i maniaci dell'ordine nel senso che se ci sta una penna fuori posto sclerano ci sono delle forme mi raccontavano queste cose alcuni esperti in psicologia che sono patologiche ci sono delle persone che entrano in alcune dinamiche rutinarie patologiche per cui cioè prima di fare una cosa mettono devono andare a letto allora devono fare dei movimenti a ripetizione quindi devono mettere la sedia in quella posizione la lampada in quell'altra posizione le scarpe che si sono tolte in quella posizione le pantofone in quell'altra posizione e se qualcuno inavvertitamente o volontariamente gli rompe la sequenza quindi gli rompe le uova è fin di mondo devono ricominciare tutto a gare questo è quello che purtroppo ci portiamo dietro no? è chiaro che è un'esperienza di liberazione globale totale piena come quella che nostro signore realizza queste cose che sono tutte quante infermità che ci portiamo dietro debolezze e dietro le quali chissà che cosa ci sta perché qui noi in questa analisi riusciremo a vedere qualcosa ma è sempre un qualcosa lo vedremo nelle puntate seguenti c'è una parte di noi che rimane comunque sconosciuta che è l'inconscio che esiste purtroppo noi siamo siamo un mistero per noi stessi non ci conosciamo così tanto bene quindi qui mettiamo un pochino di basi generali per avere quel minimo indispensabile ma rimangono comunque dei buchi nevi delle zone d'ombra tutto questo quello dovremmo tutto portare al nostro signore perché se non se lo prende in mano lui per farci proprio un repuristi generalizzato non usciamo fuori con alcune dinamiche distruttive allora questa sera facciamo uno step seguente utile sempre per comprendere un pochino quello che accade dentro noi e quali quali ulteriori dinamiche distruttive possono essere state scatenate o essere tuttora in atto dentro di noi questa sera si parla di diavoli e di diavolo argomento sempre molto molto gettonato io lo vedo insomma con i titoli degli interventi e delle catechesi quando c'è di mezzo il diavolo stranamente si assiste a dei picchi di ascolti d'accordo o di download perché è sempre un argomento che intriga un po' anche se non va bene che sia così perché non bisognerebbe dare tutta l'altra questa importanza allora affianca le paure siccome la paura è una grande leva del diavolo la paura è una grandissima leva del diavolo una delle tante però dobbiamo vedere un pochino di tecniche con cui siamo fatti fuori dal diavolo noi siamo in un punto del nostro percorso dove abbiamo visto le ferite ricevute certamente abbiamo però visto anche quello che abbiamo fatto abbiamo cominciato ad entrare dentro il mondo del nostro cuore dentro le relazionalità i comportamenti malati o o segnati profondamente feriti da tante situazioni adesso dobbiamo capire come il nemico della nostra salvezza purtroppo lavora contro di noi cosa fa come lo fa come discernere purtroppo le sue operazioni onde poterci difendere questo non è un argomento che possiamo passare sotto silenzio molti hanno paura del diavolo quando agisce in maniera appariscente straordinaria cioè dice ah non è stato di mezzo il diavolo ah dice mi hanno invitato ad assistere ad un esorcismo non ci vado ho paura ho paura ho paura è comprensibile che uno abbia paura di queste cose no? ma la paura più seria più sensata perché questa è una paura sana ci sono anche le paure sane non è dell'azione straordinaria del diavolo che dovremmo averla ma è di quella ordinaria perché quella ordinaria siamo soggetti tutti nessuno escluso cioè quello di cui parlerò questa sera è vita di tutti nessuno escluso nessuno escluso ma manco nostro signore è stato esentato dal combattimento contro il diavolo stiamo celebrando la quaresima in quaresima ricordiamo Gesù 40 giorni di regione nel deserto e poi la tentazione del diavolo che si è scatenata anche contro di lui figuriamoci se non avviene a noi lui ha combattuto ha vinto per noi e ci ha anche insegnato alcune tecniche di combattimento però il nemico dobbiamo imparare a conoscerlo e ci serviremo di un grande uno dei più grandi maestri indiscussi assolutamente indiscutibili oltre che indiscussi di discernimento che è Sant'Ignazio di Loyola che nei suoi esercizi spirituali ha scritto delle cose molto edificanti sulle tecniche di combattimento del nemico ed anche dà dei criteri di discernimento per comprendere invece quando dentro di noi comincia a muoversi qualcosa di buono e che viene da Dio adesso vediamo anzitutto di cominciare a vedere le tecniche di combattimento del nemico per chi conosce gli esercizi spirituali si trovano queste cose che leggerò e commenterò nella sezione degli esercizi dedicati alle regole cioè il numero dal numero 314 in poi ecco vedremo anzitutto le 5 regole che sono la prima la seconda e poi la dodicesima la tredicesima e la quattordicesima che riguardano proprio l'attività del diavolo nei confronti delle anime quindi come cerca di espugnare di conquistare la fortezza della nostra anima leggo e commento prima regola numero 314 a coloro che passano da un peccato mortale all'altro il demonio comunemente è solito proporre piaceri apparenti facendo loro immaginare diletti e piaceri sensuali per meglio mantenerli e farli crescere nei loro vizi e peccati con questi lo spirito buono usa il metodo opposto stimolando al rimorso la loro coscienza con il giudizio della ragione allora dentro tutta quanta quella congelica che abbiamo visto essere parte di quello che si agita dentro di noi noi sentiamo delle si chiamano emozioni delle inclinazioni dei desideri delle tendenze verso qualcosa ecco queste possono essere provocate suscitate e lo sono spesso e volentieri in maniera che noi non ne siamo coscienti perché sembra che vengano da noi ma da noi non vengono allora prima situazione perché non ci sono delle regole assolute perché è diverso il modo con cui il diavolo o Dio interviene su un'anima a seconda della condizione in cui si trova e vedremo che sono specularmente opposti non soltanto l'uno dall'altro ma anche sono specularmente opposti a seconda della situazione in cui si trova l'anima allora il primo caso che propone Sant'Ignazio sono le persone che passano da un peccato mortale all'altro quindi le persone che ancora non hanno varcato quel primo step fondamentale poi vedremo queste cose del percorso di guarigione liberazione e santificazione che è la conversione quelli che sono già del diavolo quelli che sono già suoi quando noi abbiamo una cosa che è nostra che cosa facciamo cerchiamo di consolidare la nostra proprietà quindi com'è che un'anima diventa proprietà del demonio dove siamo ah se ne hanno fatto una fattura ah si è indemoniata ah si è impossessata no figlioli miei cari se un'anima ha commesso anche solo un peccato mortale questo lo insegna la santa madre chiesa lo insegna l'orealto se un'anima commette un peccato mortale perde la grazia perde la grazia di Dio e purtroppo acquisisce lo stare in amicizia non diciamo grazie per non dare soddisfazione del diavolo diventa amico suo e il diavolo cosa fa alimenterà questa cosa d'accordo fai già questo peccato e te ne faccio qualcuna c'è già questo vizio che ne so bevi e adesso proviamo una canna ecco hai provato una canna beh una canna è un po' poco proviamo un tiro di cocaina poi la cocaina è un po' poca passiamo alle droghe sintetiche poi le droghe sintetiche sono un po' poche passiamo all'eroine poi non lo so che l'altro ci sta non sono un grande esperto insomma di queste di queste materie ecco come dire i disordini sessuali d'accordo hai rapporti prematrimoniali questo è un po' poco comincia ad andare in giro con tante donne poi un po' poco comincia a praticare anche qualche qualche digressione insomma qualche attività un po' strana e poi cominciamo anche ad andare oltre ancora quindi si può andare oltre ancora oltre ancora oltre ancora quindi questa cosa vale per i soldi per la gola per tutte quante queste cose qui quindi la secondare voglia e desideri quando una persona sta lontana da Dio è attività da evitare sospetta cosa fa nostro signore ecco qui c'è lo sfondo del Vangelo del Figlio prodigo a chi si trova in questo stato cerca di risvegliare la coscienza cioè di dire di fargli dire fermi tutti fammi mettere un attimo a pensare cosa sto facendo cosa sto guadagnando da questa vitaccia orribile e soggetta e soggiogata più che soggetta da questi grandi inganni cosa ne sto guadagnando cosa me ne sta venendo in tasca sono veramente contento a campare così pensiamo per esempio chi è schiavo della pornografia compulsiva che passa da una schifezza all'altra generalmente le persone che vivono così a parte il fatto che non bisogna mai ce lo siamo già detti giudicare perché bisogna vedere cosa c'è dietro quel comportamento da cosa la persona sta scappando quali compensazioni sta cercando eccetera comunque a prescindere da questo quella persona se ascolta i momenti diciamo di lucidità concepirà un bel giorno avversione verso quello che disgusto verso quello che sta facendo e questa è la porticina attraverso cui la grazia lo chiama e lo richiama per tirarlo fuori dai dai guai quindi quando una persona si trova in una condizione di lontananza da Dio la secondare voglia e desideri non è salutare ma il fare silenzio il farsi attenti alla voce della propria coscienza sì seconda regola 315 la situazione qui cambia perché la conversione c'è stata c'è in coloro che si impegnano a purificarsi dei loro peccati e che procedono di bene in me lo scenario è differente non stiamo più in una situazione di lontananza da Dio di inimicizia con la sua grazia ma anzi stiamo in grazia e anzi desiderosi di crescere probabilmente la maggior parte delle persone che avranno come dire la pazienza di ascoltare queste mie piccole condivisioni appartengono a questa schiera presumibilmente procedono di bene in meglio nel servizio di nostro signore che cosa succede di rincontrare rispetto a prima allora che cosa succederà lo spirito cattivo è proprio dello spirito cattivo rimordere rattristare porre difficoltà e turbare con false ragioni per impedire di andare avanti d'accordo adesso vi faremo qualche esempio invece provo dello spirito buono dare coraggio ed energie consolazioni e lacrime ispirazioni e serenità diminuendo e rimuovendo difficoltà per andare avanti nella via del bene questo è un pochino di esempi classici una persona che comincia a camminare un po' e il diavolo comincia a mettere i bastoni tra le ruote tu c'hai che ne so quell'appuntamento importante quel ritiro importante che va a succedere qualche cosa che si mette di traverso come dire un impedimento familiare un impedimento lavorativo eccetera eccetera no allora lì bisogna avere subito l'accortezza è chiaro che quando si tratta di cose qui specifico sempre perché oggettivamente invincibili quindi se mi si è ricoverata mia madre in ospedale con un tumore sta in fin di vita io non posso allontanarmi questo è chiaro questo qui no ma queste cose generalmente sono una minoranza diciamo che sono un 10-20% l'80% sono difficoltà ma sono difficoltà che sarebbero superabili allora tu devi capire che se tu stai camminando il diavolo non starà a guardare il diavolo ti metterà i bastoni tra le ruote oppure uno comincerà a pensare dice sai ma quaresima no dice facciamo qualche digiuno quaresimale dice sì però soltanto quaresimale cioè adesso mica vorremmo star fatta tutta quanta la vita al digiuno oppure uno comincia a dire un po' il rosario dice ma il rosario sì ma non ma mica lo dovrò di sempre turbare con false ragioni quindi porre difficoltà impedire di andare avanti no oppure la tristezza la tristare insomma no il cominciare a percepire sì all'inizio è tutto bello con il signore no poi certamente anche la vita interiore ha una sua disciplina ha dei momenti dove non è tutto quanto in discesa d'accordo uno prende delle buone abitudini e dice però oggi ti ando a messa a me non mi va ecco sta attento quel oggi oggi di andando a messa non mi va se tu stai acquisendo un'ottima eccellente abitudine e la presenza di una santa messa quel oggi non mi va stai attento che è sospetto invece lo spirito buono in questa circostanza soggettiva incoraggia da energie consolazioni e lacrime cioè si cominciano a vivere le prime forme di esperienza intima con il signore comprese le consolazioni e le lacrime sono cose normalissime molte persone che vedono queste cose si pensano di essere grandi mistici insomma chissà che cosa queste sono cose normalissime non soltanto quello si mette in condizione di di poterle vivere sono cose comunissime e normalissime è normale che Dio si cominci un pochino a comunicare ad un'anima che lo cerca che lo desidera che lo vuole è ovvio questo qui no? ecco ispirazione ispirazione e serenità rimuovendo ogni difficoltà quindi è contrario di prima no? andiamo a vedere un pochino le regole che sono un pochino più avanti dodicesima regola il demonio si comporta come una donna perché per natura è debole ma vuole sembrare forte infatti è proprio di una donna perdersi d'animo quando litiga con un uomo e fuggire se l'uomo le si oppone con fermezza se invece l'uomo incomincia a fuggire e a perdersi d'animo crescono smisuratamente l'ira lo spirito vendicativo e la ferocia della donna allo stesso modo è proprio del demonio indebolirsi e perdersi d'animo e quindi allontanare le tentazioni quando chi si esercita nella vita spirituale si oppone ad esse con fermezza agendo in modo diametralmente opposto se invece chi si esercita e comincia a temere a perdersi d'animo nel sostenere le tentazioni non c'è al mondo una bestia così feroce come il nemico della natura umana nel perseguire con tanta malizia il suo dannato disegno cosa sta dicendo Sant'Ignazio che al diavolo non si deve concedere nemmeno mezzo litro niente e questo è quello che ha fatto Gesù nel deserto sono 40 giorni che non mangi sono 40 non è mica una settimana non dico che vatti a vatti a ristoranti a farti pranzo con caviale cozze bongole frutti di marzo ma una pietra che diventa male un bel pezzo di male mangia te lo no non di solo pane vivrà l'uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio stroncato con la parola di Dio pensiamo ai nostri progenitori al racconto della Genesi l'ho detto tante volte cosa doveva fare Eva è vero che il Signore mi ha ordinato di non mangiare di nessun albero del bambino del giardino io con te non ci parlo via abbiamo sentito il canto che ha accompagnato l'inizio di questa puntata che sono scelto apposta via da me vattene via non ti vuoi proprio stare a sentire non lo devi stare a sentire non concedere nulla una donna seduttrice qui non si devono offendere le donne no se trova un uomo come dire che è proprio non la calcola proprio ma la guarda proprio se ne va perché non vuole essere umiliata e mortificata ma se non dico che l'uomo gli da spargo però se all'uomo gli scappa un mezzo sguardo interessato non dico che ci parla però fa un ammiccamento fa un sorrisino d'accordo? è la fine è la fine bisogna avere questa intelligenza quando cominciamo a percepire una tentazione bisogna non dire no di più via non parlare non scendere a compromessi non ascoltare tantomeno entrare in dialogo perché se entriamo in dialogo siamo morti noi non siamo più grandi di Gesù Gesù non ci ha parlato col diavolo mai l'ha lasciato parlare e dopodiché gli ha opposto con fermezza e risoluzione la parola di Dio e l'ha mandato via altra tecnica di assalto del nemico così pure il demonio si comporta come un frivolo corteggiatore che vuole rimanere nascosto e non essere scoperto infatti un uomo frivolo che con discorsi maliziosi circuisce la figlia di un buon padre o la moglie di un buon marito vuole che le sue parole o le sue lusinghe rimangano nascoste questa è la regola 326 numero 326 è la regola tredicesima è invece molto contrariato quando la figlia rivela le sue parole licenziose e il suo disegno perverso al padre o la moglie al marito perché capisce facilmente che non potrà riuscire nell'impresa iniziale allo stesso modo quando il nemico della natura umana presenta una persona retta le sue astuzie e le sue lusinghe vuole desiderare che queste siano accolte e mantenute segrete ma quando essa le manifesta a un buon confessore o ad altra persona spirituale che conosca gli inganni e le malizie del demonio questo ne è molto dispettito capisce che non potrà riuscire nella malizia iniziata dato che i suoi evidenti inganni sono stati scoperti questa regola è una regola molto importante perché ci fa esercitare una cosa che vince sempre contro il demonio e quando non c'è invece ci mette in condizione di perdere quasi sempre è la sana e sincera umiltà l'umiltà che ci spinge prima di prendere una decisione un'iniziativa a parlarne a confrontarci non perché vogliamo che altri decidano al posto nostro facciano quello che non dobbiamo fare ma perché è sempre meglio prima di fare qualcosa sottoporsi a consiglio a consiglio di persona saggia e prudente perché delle volte veniamo ingannati ci sono delle volte che non abbiamo la possibilità di percepire l'inganno questo lo vedremo ancora meglio quando faremo forse già la prossima volta il discorso sulla quadripartizione del mio in particolare per quello che attiene l'io cieco che esiste anche questo è scientificamente provato tu potresti non accorgerti di una cosa se ne accorge chi chi la vede dal di fuori specialmente se ti vuole bene uno e se ha un minimo di sapienza ecco perché è importantissimo è importantissimo dove possibile avere un confessore o in certi casi quando è necessario anche un direttore spirituale non perché con questi personaggi si instaurino dinamiche che abbiamo già visto ma le riprenderemo di dipendenza psicologica di sudditanza peggio ancora comportamenti di manipolatori o idolatrici o tutta quanta questa serie di fattori che ho dei responsabilizzanti nel senso che io scarico la responsabilità delle mie cose sul confessore sul padre spirituale gli estork mi faccio dire esattamente tutto quello che dovrei fare per filo e per segno facendogli fare una cosa insomma che neanche il nostro signore fa non è questo però per quanto riguarda queste cose avere l'umiltà di dire padre io in questa dinamica in questa situazione avverto questo ma che ne pensa di questo pensiero che ne pensa di questa situazione eccetera eccetera già che chi ti sta vicino ti dice bene lo vediamo insieme vedrai che già semplicemente parlare confrontare e avere qualcuno che ti dica e ti aiuti già a capire bene quello che tu hai già capito è un'ottima arma di difesa il diamo non può farci assolutamente nulla se tu fai questo se tu fai le cose di nascosto ti tieni tutto dentro e ci pensi da solo non hai possibilità di essere difeso e di essere avvertito o ammonito da possibili inganni chi te l'ha detto che questa cosa anche se sembra buona sia buona realmente il diavolo per portarci nei suoi infernali mondi a volte non specialmente con le persone che sono un pochino decise e risolute sulla via del bene non pensiamo che lui sia così grossolano cioè se vede una persona che è risoluta sulla via del bene a quello non gli proporrà come tentazione un peccato mortale assolutamente perché quello non lo fa un peccato mortale e il diavolo non vuole essere umiliato da una povera creatura molto inferiore a lui che quello lo va a tentare e quello ci sputa in faccia perché non lo fa il peccato mortale ma non farà mai una cosa di questo genere ti proporrà delle raffinatezze quindi delle cose apparentemente buone ma avvenenate delle vie apparentemente belle ma diciamo pure sante d'accordo ma che tali non sono che sono avvenenate o che sono pericolose le classiche avventure a rischio allora tante volte mi fu raccontato da insegni uomini di chiesa insomma durante i tempi della mia formazione la favola di Cappuccetto Rosso e tra l'altro la favola di Cappuccetto Rosso mi fu anche detto io non lo sapevo terminava in maniera drammatica cioè il luco a Cappuccetto Rosso se l'è mangiato evidentemente travestito da una nunnina e non era andato nessun cacciatore poi a sparare al lupo e a tirare fuori dalla pancia del lupo Cappuccetto Rosso Cappuccetto Rosso era morto solo che quando gli editori videro la storia e dissero la favola è bellissima è molto significativa è molto edificante però un finale di questo genere il bambino li traumatizza quindi cerchiamo di trovare gli umbletto fini e è uscito fuori il cacciatore cosa ha fatto Cappuccetto Rosso? Cappuccetto Rosso gli ha stato detto non andare da solo non starti da solo nel bosco ma no ma io vado tranquillamente che problema cioè devo andare dalla mia nunnina non c'è nessun problema vado solo ecco inoltrarsi da soli attenzione facciamo un pochino di esempi perché è sempre bene come fa una persona per esempio ad essere accalappiata da un movimento pseudo religioso non vorrei fare nomi per non offendere nessuno perché mi urta proprio sappiamo che è molto diffuso il fenomeno come dire delle come dire delle aggregazioni pseudo religiose filosofiche oppure anche religiose in senso stretto o paracristiane o pseudo cristiane o cose di questo genere come fa una persona intelligente che magari è una grande persona di dichiesa io conosco persone so di persone che sono state accalappiate qui da queste parti c'è una realtà insomma abbastanza preoccupante dal punto di vista ecclesiale che ha già non voglio ripeto fare nomi fare che ha già insomma evidentemente ricevuto scomuni insomma da parte della chiesa cattolica ma lì sono andate a finire persone che andavano a messa tutti i giorni che si confessavano tutte le settimane e come è possibile che una persona va a finire in un posto dove a messa non ci vanno più dicono che non bisogna andarci che la chiesa cattolica è marcia che i sacramenti non bisogna rivedere e che se ti nasce un bambino non lo devi battezzare e che se è morto non ti devi non fare il funerale e se viene un prete a benedirti la casa non gli devi aprire come farà una persona che andava a messa tutti i giorni a trovarsi in una riflessione del genere secondo voi secondo voi si sta ascoltando questa cosa come è possibile è stata accalappiata ma attenzione non è mica stata accalappiata in maniera grossolana come l'hanno fatto come hanno fatto ad accalappiarla c'è tuttavanto una procedura procedura diciamo così procedura che deve presentare questa cosa come bella come accattivante come vera d'accordo attraverso tutta quanto una serie di manipolazioni successive allora se tu rimani da solo a voglia andare a messa tutti i giorni a voglia confessare tutte le settimane puoi essere fatto fuori allora tu che cosa devi fare se sei intelligente la prima volta che prendi contatto con qualcuno di questo o qualche persona che ti comincia a parlare di queste cose se non sei capace di dire tu sei la cosa chiesa cattolica bene non ti voglio neanche stare ti voglio bene però non ti voglio neanche stare a sentire d'accordo viene a dirmi tutto quanto ma non mi parlare male della chiesa lo so benissimo che nella chiesa cattolica ci sono tante cose che non funzionano che i suoi figli non sono più santi degli altri hanno bisogno di conversione l'abbiamo ma non mi venire cioè ciò nonostante non si tocca d'accordo se non hai questa capacità parla con qualcuno prima che sia troppo tardi mi spiego guardate che bisogna fare molta molta attenzione quindi questa attenzione questa questa tentazione non è che a quello che andava messa tutti i giorni gli ha detto vattene a prostitute quello non ci va a prostitute non glielo dice perché non ci andrà ma se una persona poi si trova in una realtà del genere poi una volta che entra dentro quel mondo d'accordo questi mondi io ho degli amici che lavorano al Gris per esempio sono caratterizzati soprattutto una serie di meccanismi standardizzati che sono terribili se uno entra in una realtà di questo genere poi è teoricamente possibile uscire ma è molto difficile è molto difficile e anche lì per uscirne ci sarà bisogno di farti aiutare da qualcuno quindi di arrivare a un momento in cui tu chiedi aiuto in cui tu apri il cuore perché è quasi impossibile venirne fuori da soli quindi non si possono affrontare certe dinamiche certe problematiche da soli e bisogna avere l'umiltà di farsi consigliare o di chiedere un consiglio o di confrontarsi ma come ma che mi devo confrontare ma io sono tanto DJ io sono bravo io sono qua io ho già fatto di fare la messa tutti i giorni dico 50 rosari quindi il Signore la grazia mi aiuterà sì ti aiuta però il nostro Signore ha voluto che noi ci facessimo aiutare gli uni dagli altri che nessuno di noi fosse autosufficienti io dico sempre il Papa che insomma il Capo della Chiesa Cattolica il Vicario di Cristo è in terra il Papa si confessa non si può dare la soluzione da solo ci siamo mai chiesti come mai io posso confessare a tutti quanti meno che a me stesso io mi devo confessare devo andarmi ad umiliare devo andare da un mio confratello a dirgli le mie miserie io non posso fare il direttore spirituale a me stesso posso farlo a tante persone che me lo chiedono se sono in grado di farlo ma sicuramente non lo posso fare a me stesso non lo posso fare a me stesso perché nostro Signore ha stabilito che il sacramento della confessione è un prete cioè io la messa la celebro non lo posso fare anche da sola cioè la comunione me la prendo da solo insomma quindi non è che è una cosa dice questo è un limite del sacramento dell'ordine e col sacramento dell'ordine i sacramenti può dare soltanto al prossimo insomma cioè la messa la messa celebrata dal sessitore da solo è perfettamente messa poi lo stesso che ce l'ha insegnato tu consacri offri fai la comunione e fai tutto da solo d'accordo ma a confessione no l'olio santo no se io stanno male dovrò chiedere a qualche confratello che abbia la carità di me e mi dare l'olio santo non me lo posso dare da solo guardate che che ci vorrebbe prendo l'olio mi faccio il segno sulla fronte sulla mano destra sulla mano sinistra dico una formula e me lo faccio da solo come mai Gesù non ha voluto che questo si potesse fare ecco perché anche a chi ha il potere di poter agire in suo nome quindi di rimanesse questa dipendenza strutturale da qualcun altro perché solo Dio fa da solo solo Dio fa da sé noi diciamo che chi fa da sé fa per tre va bene per certe cose può essere una buona intuizione non per tutte però allora quando si sta soprattutto già avviati nel bene bisogna fare attenzione perché il diavolo si raffina non è più come dire grossolano d'accordo quindi non è che ti propone ma diventa raffinato quindi non ti propone immediatamente una cosa negativa ma ti ci porta piano piano attraverso un raggiro attraverso una trappola attraverso un inganno solo chi c'ha naso può dirti non ti imbarcare in questa cosa figlione magari io dico queste cose perché non voglio e mi atterrò a questa cosa non voglio fare esempi nei nomi di nessuno mai però nel corso della storia ci sono stati grandi personaggi anche qui vorrei evitare di fare nomi d'accordo però anche tra i padri della chiesa così siamo generali che erano dei geni delle persone straordinarie si sono fatti lentamente accalappiare da gruppi ereticali e qualcuno è morto speriamo che il signore abbia comunque provveduto alla salvezza della sua anima vicino a questi pseudogruppi e lontano dalla chiesa cattolica le modalità cioè tu dici ma come un ministro un prete un vescovo un teologo di quel calibro come ha fatto a farsi abbindonare in tempi recenti ci sono stati insomma vabbè questo è un fatto pubblico io rimasi io ero piccolino insomma no rimasi sconvolto da un fatto di cronaca che ho coinvolto un vescovo insomma che fu trascinato dentro una setta spaventosa terribile andò a televisione su tutti i giornali insomma il pontefice intervenne in prima persona per cercare di tirarlo fuori dai guai sembrava esserci riuscito ma poi non c'è riuscito come ha fatto un vescovo a trovarsi in quella situazione capiamo con chi ci abbiamo a che fare quindi non voglio io far venire alla gente la paura del diavolo d'accordo perché il diavolo si alimenta della nostra cioè vuole terrorizzarci quindi vuole che siamo però non si deve né avere il terrore ma neanche fare gli sciocchi nel senso sottovalutare un avversario le adeguate e opportune armi quelle che si devono usare questa è importante questa è importante e quanto più siamo incamminati verso la santità e questa non è proprio una spia tanto più dobbiamo essere pronti e disponibili al confronto e ad essere attenti che quando c'è qualcosa che tocca alcuni punti e mi permetto di ripetere la chiesa non si tocca quando qualcuno viene a dirci qualcosa e comincia che io capisco ma no ma guarda questo fatto è vero d'accordo io devo raccontare questa storia quel vescovo questa cosa l'ha fatta l'ha detta ci sta ci sta nei telegiornali quindi parliamone a te sembra va beh fammi sta sentire io se mi posso permettere un consiglio dico stai attento perché questa può essere una cosa una prima come dire un primo approccio che oggi ti senti il vescovo X domani il cardinale Y dopo domani il prete Z dopo domani quel papa che dopo quell'altro dopo quell'altro dopo quell'altro che sta qui accumuli 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 tra due anni ti ritroverai fuori della chiesa d'attento d'attento perché fuori della chiesa cattolica salvezza non c'è specialmente per chi già ci sta dentro d'accordo noi ho fatto tante catechesi in passato poi le rifaremo dove spiegavo come si deve interpretare il principio antichissimo extra ecclesiam nulla salus d'accordo non vuol dire che tutti quelli che non fanno parte della chiesa vanno automaticamente tutti all'inferno come è insegnato anche nella lume gentium però chi ci sta dentro la chiesa non si deve muovere dalla chiesa questo è sicuro questo qui d'accordo quindi attenzione a queste tecniche il diavolo non viene quando ti fa una prima moina a dirti dove vuole andare a parare sei tu che devi capirlo ma siccome tu da solo non sei in grado di capirlo chiedi consiglio a qualcuno che ti dirà fermati lascia perdere se imbrocchi sta strada ti sembra che non è niente ma ti andrai a ritrovare dentro un burrone lascia stare e se ti dice lascia stare tu abbia l'umiltà di lasciar stare si rampa lo stesso quattordicesima ed ultima regola che vediamo questa sera anche perché il tempo a nostra disposizione è finito così pure il devono si comporta come un condottiero che vuole vincere e fare bottino infatti un capitano che è capo di un esercito pianta il campo ed esamina le difese o la disposizione di un castello e poi lo attacca dalla parte più debole allo stesso modo il nemico della natura umana ci gira attorno San Pietro come l'onne rugente va in giro cercando di divorare esamina tutte le nostre virtù teologali cardinali e morali e poi ci attacca e cerca di prenderci dove ci trova più deboli e sproveduti per la nostra salvezza eterna questa è un'altra cosa terribile io mi permetto di aggiungere non voglio certamente fare le glosse a Sant'Ignazio che è un mostro in senso buono insomma un gigante nell'incernimento degli spiriti non è solo un problema di scarsità in qualche virtù teologale cardinale e morale ma che le nostre debolezze psicologiche quello che abbiamo visto la volta scorsa le paure le leve su cui può lavorare sulla nostra anima attenzione perché è una vecchia volpe il diavolo a esperienza quanti migliaia di anni sono che Dio ha creato gli angeli io sinceramente non lo so credo che siano un bel po' quando è accaduto il peccato originale bella domanda secondo la cromologia politica comunque almeno 4.000 anni avanti Cristo quindi 4.000 più 2.000 abbiamo già 6.000 anni di esperienza con tanti esseri umani insomma avrà imparato qualcosa il diavolaccio no? forse sì ecco quindi attenzione perché saremo attaccati sui nostri punti deboli tu conosci i punti deboli sei in grado di conoscerli sei in grado di riconoscerli sei in grado di amministrarli di gestirli punto interrogativo stiamo dinanzi ad un avversario astuto e cattivo il suo scopo è di portarci alla rovina di portarci all'infelicità di portarci lontani dalla vita del Signore di non farci prendere nessuna delle tante grazie che il Signore ci ha riservato e se ci riesce di portarci all'eterna dannazione che non è una cosa bella quindi dobbiamo fare attenzione dentro la nostra realtà esistenziale così viviamo l'argomento di questa sera a tenere presente che oltre al nostro panorama psico emotivo già abbastanza turbolento e complicato dobbiamo fare i conti anche con questo che tra l'altro con questo nostro panorama turbolento e complicato ci gioca come il gatto col topo ecco quindi dobbiamo fare attenzione e dobbiamo avere l'umiltà di chiedere aiuto e di farci aiutare non costituirci nelle nostre cose giudici di ultima istanza questo tiene lontano il diavolo e gli impedisce di fare non pochi dei danni che avrebbe intenzione di arrecare alle nostre persone la prossima volta faremo se diventa uno step ulteriore andando a decodificare come è fatto il nostro io la prossima volta ancora se il signore ci aiuta andremo a vedere il discorso che qualcuno già conosce perché ne ho parlato ovviamente in passato del nostro dna interiore cioè che non so l'ho detto quello biologico che è appunto il nostro temperamento però una cosa alla volta ci aggiorniamo un buon fine settimana a tutti tutto sempre alla maggiorniera di Dio alla prossima e a presto e a presto a presto